buongiorno bentrovati buona domenica 16 luglio settima domenica dopo pentecoste secondo il nostro rito ambrosiano è bene comunque ricordare che anche se la domenica non si ricordano i per santi il 16 luglio è nella tradizione della chiesa il giorno dedicato alla Madonna del Carmelo la Vergine che viene venerata con questo titolo dal monte Carmelo in terra santa dove pregò il profeta Elia e dove si stabilirono i frati i monaci che dedicarono a Dio tutta la loro vita e vissero in preghiera amando Gesù e amando Maria l'ordine carmelitano dalle origini sul monte Carmelo si diffuse poi in tutta la cristianità partendo da Messina e diffuse la rivoluzione alla Vergine Santa celebrando precisamente il 16 luglio giorno in cui si ricorda l'apparizione della Vergine a San Simone Stock quando le consegnò lo scapolare del Carmelo da portare con fede per consacrarsi a Maria e avere la speranza sicura della salvezza eterna vivendo secondo i comandamenti vivendo secondo la volontà di Dio ricordiamo che anche Giovanni Paolo II portava devotamente lo scapolare della Vergine del Carmine ecco il Vangelo di oggi secondo il nostro litambrosiano lettura del Vangelo secondo Luca in quel tempo il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi mentre era in cammino verso Gerusalemme un tale gli chiese signore sono pochi quelli che si salvano disse loro sforzatevi di entrare per la porta stretta perché molti io vi dico cercheranno di entrare ma non ci riusciranno quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo signore aprici ma egli vi risponderà non so di dove siete allora comincerete a dire abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato nelle nostre piazze ma egli vi dichiarerà voi non so di dove siete allontanatevi da me voi tutti operatori di ingiustizia là ci sarà pianto estridore di denti quando vedrete Abramo Isacco e Giacobbe tutti i profeti nel regno di Dio e voi cacciati fuori verranno da oriente e da occidente da settentrione e da mezzogiorno sederanno a mensa nel regno di Dio ed ecco vi sono ultimi che saranno primi e vi sono primi che saranno ultimi parola del Signore Gesù non risponde alla domanda se sono tanti o poi quelli che si salvano Gesù però ci invita a sforzarci sforzatevi di entrare per la porta stretta entrare nel regno di Dio significa passare per la porta stretta perché Cristo stesso è la porta come dice altrove io sono la porta e la porta è la sua condotta non possiamo pensare di entrare nel regno di aver la salvezza eterna se abbiamo gusti contrari e quelli di Cristo se amiamo la ricchezza e lui ha amato la povertà se amiamo il lusso e lui ha amato le umiliazioni se amiamo dominare e lui ha amato servire non possiamo pensare di entrare per la porta stretta se non abbiamo i gusti e i sentimenti di Cristo e non basta quindi un'appartenenza formale esteriore non basta neanche dire sono prete sono del consiglio pastorale sono del tal movimento sono sempre nata messa certo che sono cose importanti ed è una grazia essere prete è una grazia vivere un'esperienza di un movimento di un'associazione è una grazia essere nel consiglio pastorale ma a tale grazia deve corrispondere la nostra libertà che fa sì che ogni momento della nostra vita si conformi sempre più alla volontà di Dio e sia segno del suo amore per gli altri per tutti allora ci stiamo sforzando di entrare per la porta stretta se con la nostra bontà col nostro sorriso con la nostra gentilezza con il nostro coraggio con la nostra perseveranza siamo testimoni del regno di Dio e diffondiamo attorno a noi la bontà del padre chiediamo la grazia di essere fedeli perché non risuoni per noi quella monito tremendo non so di dove siete ma perché si aprono le porte dell'eternità quando il signore ci chiamerà e perché già ora possiamo vivere nella speranza dell'eternità seminando attorno a noi la gioia e la pace la virgine maria la madonna del carmine la vergine del carmelo interceda per noi estenda su di noi il suo manto perché ci aiuti a camminare con perseveranza sulla via della salvezza che ci ha indicato suo figlio nostro signore gesù cristo buona domenica madonna del carmine prega per noi sia lodato gesù cristo grazie a tutti